Il tema che alla fine è uscito come tema valore è quello dell'ambiente. Questo tema è uscito da una parte, insomma dai ragazzi, e poi anche noi, l'equipe di lavoro, l'abbiamo molto caldeggiato perché in fondo è come se a pianura prima di tutto adesso sta iniziando la raccolta differenziata. Pianura è sempre quella che è stata una decina di anni fa la terra dei fuochi. Rispetto ai laboratori che già facevamo, ci siamo resi conto in fondo che già tanti laboratori avevano il tessuto sull'ambiente perché in ogni caso i più piccoli hanno un orto, in ogni caso abbiamo una rubrica radio, in ogni caso facciamo un laboratorio di lettura dove adesso in maniera più mirata abbiamo trovato degli antichi testi di pianura e poi ancora anche per quanto riguarda delle dramatizzazioni, in ogni caso abbiamo fatto sì che alcune dramatizzazioni avessero come tema di sottofondo l'ambiente. Stiamo raccogliendo man mano tutti questi materiali, insomma con l'idea che poi l'artista prescelto riesca a configurare in maniera molto precisa. E non solo, poi stiamo facendo entrare anche alcuni genitori, non più di uno o due alla volta all'interno di questi laboratori in maniera tale che in qualche maniera, in maniera anche soffusa, anche loro riescano a dare un loro contributo, una loro lettura rispetto a questo tema valore. Insomma ci sembra una grande scommessa.